Allora Margherita, innanzitutto grazie per questo grande regalo di essere qui con noi a un premio che abbiamo deciso di dedicare a Nadia Tuffa, tua figlia. Tu eri la persona che era più legata a Nadia, ma Nadia è stata una grande giornalista d'inchiesta che ha fatto delle inchieste difficili e soprattutto che l'ha fatta sempre con umanità e con sensibilità. Forse anche per questo che è stata tanto amata. Quanta era la passione Margherita di Nadia per il giornalismo d'inchiesta? Infinita! Non aveva limiti, dimenticava di mangiare, dimenticava tutto pur di portare a termine la sua inchiesta. Era una cosa che non dormiva la notte, studiava, faceva di tutto, ma non mollava mai finché non aveva portato a termine la sua inchiesta. Questo era senza limiti. Sì, senza limiti. Lei tra l'altro non ha mai smesso di raccontare, non ha mai smesso di raccontare anche quando non poteva più raccontare le vicende degli altri, ha cominciato a raccontare la sua, dando anche un messaggio di speranza. Non è vero? È vero, è vero. Ha scritto un libro mentre era malata, proprio per dare speranza agli altri, per raccontarsi. Poi ne ha scritto un altro sempre mentre era malata, che è uscito postumo, ma anche lì comunque ha raccontato se stessa. Sempre per dare speranza agli altri e aiutarli in un percorso molto, molto difficile. Il percorso di una malattia così grossa, così pesante. Sì, tra l'altro, tra le sue inchieste, è famosa quella di Taranto, dell'inquinamento ambientale di Taranto, tanto che le hanno intitolato il reparto di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata, recentemente. È vero? Aveva tanto a cuore i bambini di Taranto, amava Taranto, amava i Tarantini, ma aveva tanto a cuore i bambini di Taranto. E si è veramente spesa per l'aiuto naturalmente di tutte le persone di Taranto, di Ignazio, di Alessandra, Marotta, di tante persone, aiutata poi da tanti volontari, che l'ha aiutata a vendere queste magliette, che poi hanno portato a poter creare un polo dove i bambini si potessero curare. E ha raccolto veramente tanto. Non so come abbia fatto, comunque racconto naturalmente con l'aiuto di tutti quanti. Il suo impegno continua a proseguire grazie alla Fondazione Nadia Toffa, vero? Abbiamo creato la Fondazione Nadia Toffa proprio per proseguire in questo programma, per aiutare ancora la ricerca oncologica, sia del reparto oncologico di Taranto, per aiutare Don Patricello della Terra dei Fuochi, perché veramente a volte è nella disperazione, tanti problemi ad avanti, e per aiutare il Besta nella ricerca, perché il tumore che aveva Nadi è rarissimo, quindi non danno soldi per questa ricerca, anche se lui, il professor Finocchiaro, è molto, molto avanti in questa ricerca. Però se non ha i fondi non può portare avanti nulla. E noi stiamo facendo di tutto e di più, abbiamo fatto le magliette, abbiamo pubblicato questo libro, Non fate i bravi, e tutti i proventi andranno naturalmente a queste persone, al Besta, ad Don Patricello, a Taranto. E poi faremo tante, tante altre cose, c'è un libro ancora a divenire, faremo altre magliette, faremo tanti eventi, naturalmente per raccogliere più soldi possibili per dare alla ricerca oncologica. Tra l'altro Nadia aveva vinto anche lei un premio nel 2015, ha vinto il premio internazionale del giornalismo come migliore giornalista televisiva. Che cosa, pensi che sarebbe contenta di sapere che l'è stato dedicato un premio per i giornalisti indipendenti? Ma sicuramente, ma lei lo sa. Lei in questo momento penso che ci sta guardando. E penso che lei lo sa. E sicuramente sarà contentissima, perché il suo sogno era il giornalismo, il giornalismo di inchiesta, indipendente, non importa. Il giornalismo, di inchiesta soprattutto. E quindi sarà felicissima. Io sono felicissima. Vuoi fare un ultimo augurio al progetto vincitore? Perché abbiamo il progetto vincitore adesso. Vuoi fare un augurio a chi vincerà questa edizione del premio? Certo, coraggio, andare avanti con tanto, tanto coraggio, non mollare mai, mettercela tutta. E quando uno vuole arrivare, dove vuole arrivare, ci arriva sicuramente. Grazie, grazie, grazie mille Margherita. Grazie a tutti.